eccoci qua samsung galaxy buds live cominciamo subito con l'apertura eccola qua soddisfacente con manuali di istruzioni cuffie e chiavetti protetti nella scatola benissimo andiamo subito con i particolari tecnici allora le cuffie sono delle cuffie auricolari in iara che non sono come dei cuffie normali infatti vanno all'interno dell'orecchio sono a forma di fagiolo la custodia non è scatto infatti se la chiudo in questo modo rimangono rimane aperte in questo modo e se la chiudo posso anche chiuderla fino a questo punto qua che poi si va a chiudere vi darò degli aggiornamenti su instagram e se si comporta bene infatti le ho già testate tre giorni ma se volete di testa approfonditi andate a vedere instagram che ne parlerò meglio comunque sono molto buone come cuffie le consiglio anche se uscita già la seconda versione dipende più che altro quali vi piacciono a livello estetico le altre non so la la versione 2 le buzz live live 2 non so che che caratteristiche hanno in più non lo so sinceramente però dipende secondo me dipende più che altro dal fattore estetico io sinceramente ho preso queste qua perché mi piacevano di più io trovo e adesso vi consiglio di guardare molto le marketplace online perché di sconto davvero tanto infatti lo trovate su amazon con con un grande sconto come anche vecchie come anche vecchie cuffie xiaomi